Cosa non è andato oggi? Eh, non è andato un po' tutto diciamo, non ero bello pronto in posizione, non ero pronto per partire bene dalle gambe e di conseguenza non sono arrivato in mezzo. Tanto rammarico per questa occasione sfumata? Eh, c'è tanta delusione, sì, perché speravo proprio sul trampolino grande di fare il mio meglio e purtroppo è andata così. Non c'è anche il tenere duro per la gara squadra e spero già domani in allenamento di trovare buone situazioni e di trovare il risultato.